Il celebre avvocato Bontrang, colui che da dieci anni difende e vince a Parigi ogni causa importante di separazione tra conigi che non si sopportano più, aprì la porta dello studio e si ritrasse per lasciar passare il nuovo cliente. Questi era un uomo grande e grosso dal colorito acceso, i folti favoriti biondi, un po' di pancia, un tipo sanguigno e vigoroso. Si inchinò. — Accomodatevi, disse l'avvocato. Il cliente si sedette e dopo aver tossicchiato disse — Vengo a chiedervi, avvocato, di assistermi in una causa di divorzio. Dite, signore, vi ascolto. — Avvocato, io sono notaio a riposo. Di già, di già, ho trentasette anni. Continuate. Avvocato, io ho fatto un matrimonio infelice. Infelicissimo. Non siete il solo. Lo so. E compiango gli altri. Tuttavia, il mio caso è davvero singolare e le accuse che rivolgo a mia moglie sono di una natura del tutto particolare. Ma è meglio cominciare dall'inizio. Mi sono sposato in modo azzai bizzarro. Credete al pericolo di certe idee? Che cosa intendete dire? Non credete che per alcuni certe idee siano altrettanto pericolose per la mente quanto i veleni per il corpo? Ma sì, forse. È sicuro. Ci sono idee che penetrano in noi, ci fanno arrovellare e, se non sappiamo resistere, ci uccidono. È una specie di filossera dell'anima. Se per disgrazia permettiamo a uno di questi pensieri di insinuarsi in noi, se non ci accorgiamo subito che si tratta di un invasore, di un padrone, di un tiranno capace di estendersi di ora in ora, di giorno in giorno, tornando senza tregua a installarsi in noi, facendoci dimenticare ogni altra preoccupazione, assorbendo ogni nostra attenzione, alterando la nostra capacità di giudizio. Siamo perduti. E questo è quanto è avvenuto a me, caro avvocato. Come ho già detto, facevo il notaglio a Rouen ed ero in leggere ristrettezze economiche. Non proprio indigente, ma in difficoltà, pieno di preoccupazioni. Costretto a fare meschine economie, a limitarmi in ogni piacere, sì. E questo è duro alla mia età. Come notaio leggevo con attenzione gli annunci economici nell'ultima pagina dei quotidiani, le offerte e le richieste, la posta del cuore, eccetera eccetera. E più di una volta ero riuscito con quel mezzo a far combinare matrimoni molto vantaggiosi ad alcuni miei clienti. Un giorno mi capitò di leggere. Signorina bella, illibata, ottima educazione. Due milioni cinquecentomila franchi di dote sposerebbe distinto, esclusi intermediari. Bene, proprio quel giorno ero a pranzo con due amici, un procuratore e il proprietario di una filanda. Non so come la conversazione finì sui matrimoni e io parlai, celiando, della signorina illibata con due milioni e mezzo di dote. I finlandieri mi fa. Che razza di donne saranno quelle lì? L'avvocato invece aveva veduto concludersi felicemente e più di una volta matrimoni conclusi con quel mezzo. Poi rivolgendosi a me soggiunse. Perché non ti accerti di cosa si tratta proprio per te? Per dinci, due milioni e mezzo risolverebbero tutti i tuoi problemi. Ci mettemmo a ridere tutti e tre e parlammo d'altro. Un'ora dopo ci salutammo. Quella notte faceva freddo. Io abitavo in una casa vecchia, una di quelle case di provincia che sembrano fungaie. Appena poggiai la mano sulla ringhiera gelida delle scale. Un brivido mi percorsa il braccio e mentre stendevo l'altro per trovare la parete mi invase un secondo brivido ancora più forte. Mi si congiunsero entrambi sul petto, riempiendomi di malumore, di tristezza e di angoscia. Allora mi ricordai di quel discorso. Per bacco, se li avessi veramente quei due milioni e mezzo di franchi. La mia stanza era lugubre, una camera da scapolo provinciale, riordinata da una serva che provvedeva anche alla cucina. Ve la figurate? Che razza di camera! Un lettone senza tende, un armadio, un cassettone, la toletta e niente caminetto. Vestiti buttati sulle sedie, carte per terra. Cominciai a canticchiare un motivetto da caffè concerto, dato che mi piace frequentare quei locali. Due milioni, due milioni, ancora un altro mezzo, e la moglie per compenso. Se devo dire la verità, alla moglie non avevo ancora pensato. Mi venne in mente all'improvviso, mentre mi infilavo tra le lenzuola. Si pensai tanto a lungo che quasi non mi riuscì da addormentarmi. Il giorno dopo, appena aprì gli occhi, mi ricordai che dovevo trovarmi alle otto ad Arnital per un affare importante. Dovevo alzarmi alle sei e con quel freddo glaciale. E poi per bacqua, quei due milioni e mezzo. Tornai allo studio verso le dieci. C'era odore di stufa arroventata e di carta vecchia. L'odore delle vecchie pratiche, quelle che puzzano di più. E c'era l'odore degli scrivani, dei loro stivaletti, palandrane, camice, pelle e capelli, entrambi lavati di rado. Il tutto riscaldato a diciotto gradi. Come gli altri giorni feci colazione con una costoletta bruciacchiata e un pezzetto di formaggio. Poi mi rimisi a lavorare. A questo punto cominciai a pensare sul serio alla signorina dei due milioni e mezzo. Chi era? Perché non tentare di saperlo? Finì con l'immaginare la sua storia. Quando vogliamo qualche cosa, caro avvocato, ce la figuriamo sempre come speriamo che sia. Non era naturale che una signorina per bene, con una dote tanto vistosa, cercasse marito attraverso i giornali. Tuttavia poteva darsi che si trattasse di una ragazza onesta ma disgraziata. A prima vista quella dote di due milioni e mezzo non mi aveva abbagliato come una somma fantastica. Noi, che leggiamo tutte le offerte di questo tipo, siamo abituati a proposte di matrimonio accompagnate da sei, otto, dieci e persino dodici milioni. Cifra che anzi è abbastanza frequente. Piace. So bene che non crediamo che queste promesse corrispondano alla realtà. Tuttavia servono a farci entrare in testa quelle cifre fantasmagoriche. Rendono verosimili, dentro certi limiti, per la nostra disattenta curiosità, le somme prodigiose che rappresentano e ci dispongono a considerare una dote di due milioni e mezzo come del tutto possibile e giusta. Dunque, una ragazza, figlia naturale di un arricchito e di una cameriera, improvvisamente divenuta erede del padre, poteva aver scoperto nello stesso tempo la vergogna della propria nascita e, per non doverla rivelare all'uomo che l'avrebbe amata, faceva ricorso agli sconosciuti, con un mezzo usato frequentemente e che implicava di per sé quasi una confessione di tara originaria. La mia supposizione era stupida, eppure continuavo a ritenerla esatta. Noi notai non dovremmo mai leggere romanzi e io, caro avvocato, ne ho letti. Scrissi dunque come notaio a nome di un cliente X e rimasi in attesa di risposta. Cinque giorni dopo, mentre lavoravo nello studio, il primo dei miei dipendenti venne ad annunciarmi. La signorina Shantelfreeze. Fatela passare. Apparve allora una donna sulla trentina, piuttosto grossa, bruna, dall'aria impacciata. Accomodatevi, signorina. Mentre ci sedeva, sussurrò. Sono io, signor notaio. Signorina, io non ho l'onore di conoscervi. Sono quella a cui avete iscritto. Per un matrimonio? Sì, signore. Ah, molto bene. Sono venuta di persona perché così le cose si combinano meglio. La penso come voi. E allora? Volete maritarvi? Sì, signore. Avete famiglia? Esitò e balbettò, chinando gli occhi. No, mia madre e anche mio padre sono morti. Trassalì. Dunque avevo indovinato. E nell'animo mio si destò improvvisamente una forte simpatia per quella povera creatura. Non insistenti sull'argomento per evitare di ferire la sua sensibilità. Allora continuai. Ci sono tasse o ipoteche sulla vostra dote? Questa volta rispose senza esitare. Nessuna. La guardai con molta attenzione. A dire la verità non mi dispiaceva, anche se era un po' matura, più di quanto avesse supposto. Era una bella donna, un pezzo di ragazzona, un tipo nell'insieme. Mi venne l'idea di recitare una piccola commedia sentimentale, di recitare la parte dell'innamorato e soppiantare il mio immaginario cliente, non senza essermi prima assicurato della consistenza della dote. Presi a parlarle di questo cliente, descrivendolo come un uomo triste, molto rispettabile e un po' malato. Lei esclamò vivacemente. Oh no, signore. A me piacciono le persone in buona salute. Lo vedrete, signorina, ma solo tra tre o quattro giorni, perché ieri è partito per l'Inghilterra. A che contrattempo, fece lei. Mio Dio, sì e no. Avete tanta fretta di ritornare al vostro paese? Nessuna fretta. E allora rimanete qui. Farò del mio meglio per aiutarvi a passare il tempo. Siete troppo gentile, signore. Alloggiate in albergo? Lei nominò il migliore Dio qua. Allora, signorina, volete permettere al vostro futuro notaio di invitarvi a pranzo questa sera. Sembrò esitare, perplessa nel prendere decisioni. Poi finalmente rispose, va bene, signore. Verrò a prendervi in albergo alle sette. Va bene. Allora, questa sera, signorina? Sì, signore. E la riaccompagnai fino alla porta. Alle sette ero da lei. Si era fatta elegante per me e mi accolse in modo graziosamente civettuolo. La condussi in un ristorante dove ero conosciuto e ordinai delle pietanze stimolanti. Un'ora dopo avevamo stretto amicizia e lei mi raccontava la sua storia. Figlia di una grandama sedotta da un gentiluomo era stata allevata in una casa di contadini. Adesso era ricca, avendo ereditato sia dal padre che dalla madre, dei quali non avrebbe mai svelato il nome. Inutile chiedere e supplicare. Non li avrebbe mai detti. Poiché non ci tenevo a conoscerli, feci qualche domanda sulla dote. Ne parlò subito, da donna pratica, sicura di sé, esperta di cifre, titoli, rendite, investimenti. La sua competenza in materia mi fece avere subito una gran fiducia in lei. E sia pure garbatamente, cominciai a corteggiarla, facendole intendere con chiarezza che, come donna, mi piaceva. Mostrò di gradire le mie attenzioni, con grazia. Gli offrì champagne, e bevendone anch'io, nebbi la mente un poco tenebrata. Sentì, in modo inequivocabile, che stavo per diventare intraprendente. Ebbi paura, sia per me che per lei. Paura che, un poco eccitata com'era, finisse col concedersi. Per calmarmi, ripresi a parlarle della dote, che occorreva stabilire con precisione, dato che il mio cliente era uomo d'affari. Lei rispose disinvoltamente. Capisco. Ecco perché ho portato con me tutti i documenti. Qui, a Juan? Certo, qui. Li avete in albergo? Ma sì. Potete mostrarmeli? Ma sì. Questa sera? Certo. Questo mi dispensava da fare altre cerimonie. Pagai il conto, ed eccomi nella sua camera. Aveva effettivamente portato con sé tutti i documenti. Non potevo più avere dubbi. Li avevo in mano. Palpavo i titoli, leggevo le obbligazioni. Fui così felice che fui subito preso dal violento desiderio di baciarla. Intendiamoci, un desiderio quasi casto, da uomo contento, ecco. E così la baciai. Una volta? Due? Dieci. E con l'aiuto dello champagne mi concessi, o meglio no, si concesse lei. Ah, signor avvocato, come ci rimaci male. Dopo. E lei poi piangeva come una fontana, supplicandomi di non tradirla, di non rovinarla. Promisi tutto quel che volle, e andai via in uno stato d'animo spaventoso. Che fare? Avevo abusato di una cliente. Poco male se avessi avuto sotto mano un cliente per lei. Ma non ce l'avevo. Ero io il cliente. Ingenuo e tradito, tradito da me stesso. Che situazione. Potevo lasciar perdere, è vero? Ma la dote, quella bella dote già controllata, sicura. E poi, che diritto avevo di piantarla, povera ragazza, dopo averne approfittato in quella maniera. Ma quanti affanni, dopo. Quanta poca sicurezza l'avrebbe dato una donna così facile a farsi prendere. Passai la notte tra tremende indecisioni, tormentato dai rimorsi, straziato da mille timori, agitato da mille scrupoli. Ma al mattino vedevo tutto chiaro. Mi vestii con cura, mi presentai a lei alle undici in punto, nell'albergo dove era alloggiata. Appena mi vide, arrossi fino agli occhi. Signorina, le dissi, posso fare una cosa sola per riparare i miei torti. domando la vostra mano. Lei sussurrò, ve la concedo. E la sposai. Per sei mesi andò tutto bene. Avevo ceduto il mio studio, vivevo di rendita e non avevo niente, proprio niente da rimproverare a mia moglie. A poco a poco cominciai a notare che a intervalli periodici lei si assentava per parecchio tempo, a giorni fissi, una settimana il martedì e la settimana seguente il venerdì. Pensai ad essere tradito e la seguì. Era un martedì. Lei uscì a piedi verso l'una. Percorse le ruide repubbliche. Voltò a destra costeggiando il palazzo dell'Arcivescovado. Prese per lui campon fino alla Senna. Arrivò a Pont-de-Pierre e oltrepassò il fiume. Da quel momento in poi diventò inquieta. Ne prese a voltarsi spesso, a osservare tutti i passanti. Io m'ero travestito da carbonaio e lei non mi riconobbe. Entrò finalmente nella stazione sulla sinistra del fiume. Ormai non avevo dubbi. Il suo amante sarebbe arrivato col treno del luna e tre quarti. Mi nascosi dietro un camion e aspettai. Un fischio, poi un flusso di viaggiatori. Lei si slancia in avanti. Prende tra le brazza una bambina di tre anni che era accompagnata da una grossa contadina. La bacia con passione. Poi si volta e vede un altro bambino, più piccolo, femmino o maschio non lo so, condotto da un'altra contadina. E lo stringe forte al petto e si allontana insieme ai due piccini e con le due governanti verso la lunga ombreggiata e deserta passeggiata di Curlarein. L'incasai sbarrito, con animo angosciato, intuendo sì e no quel che non avevo il coraggio di indovinare. Mi scagliai contro di lei quando tornò per il pranzo, urlando, chi sono quei bambini? Quali bambini? Quelli che aspettavi al treno di Saint-Sever. Gettò un grido e cadde svenuta. Quando riprese i sensi mi confessò, in un diluvio di lacrime, di averne quattro. Sì, avvocato, ne vedeva due il martedì, due bimbe, e due il venerdì, due maschietti. Ed era quella, che vergogna, l'origine della sua ricchezza. C'erano quattro padri diversi. Ecco come aveva accumulato la dote. E ora, avvocato, cosa mi consigliate di fare? L'avvocato rispose gravemente. Riconoscere i vostri figli, signor notaio.